mora rossa completamente rasata ed ora biondo platino in quanto a sperimentazione di nuovi look francesca in audi ha esperienza da vendere a gossip news l'attrice ha raccontato quanto le piaccia giocare con la propria immagine di oggi un look tutto nuovo è dovuto esigenza di copione chi mi segue sa che io sono un po pazzarella mi piace giocare l'altro nel mio lavoro abbiamo visto rossa ma ora biondo cenere ora biondo platino qual è il look che preferisci fra questi a seconda del periodo grazie a tutti